Perché siete qui a manifestare? Siamo qui a manifestare perché ancora una volta la consulta ha deciso di togliere il diritto agli italiani di poter decidere. Siamo qui a manifestare perché riteniamo che la consulta non debba compiere atti politici e di conseguenza non debba andare dietro alle indicazioni del governo Renzi. Siamo qui a manifestare perché i cittadini onesti, i 550.000 elettori italiani che hanno chiesto di poter svolgere un referendum non sono stati accontentati ma soprattutto non sono stati accontentati tutti coloro che dopo il primo accoglimento da parte della consulta si sono ritrovati praticamente questa amara sorpresa in questi giorni. Quindi la posizione della Lega è chiara, la posizione della Lega è quella di difendere tutti coloro che in questo momento avevano la speranza di poter cambiare le cose.